Musica Definire il Giovanni Paolo II un gioiellino è una provocazione alla città e distoglie l'attenzione su Sciacca per spostarla verso altri ospedali. Così il sindaco termine replica le dichiarazioni del parlamentare Carmelo Pace. L'Asp di Agrigento enfatizza i servizi dell'ospedale di Sciacca, in particolare quello di odonto iatria riabilitativa. Il commissario dell'Asp annuncia anche l'avvio della terapia del dolore ad Agrigento. Sciacca attende ancora. Buone notizie per l'impiantistica sportiva. Rimodulato il progetto e confermato il finanziamento dei 600 mila euro per il pallone tenda della Perriera. I lavori, dice l'assessore Golotta, si concluderanno entro il mese di settembre. Zootecnia e pesca. Tra sostenibilità e innovazione, esperti e operatori del settore si sono confrontati ieri pomeriggio a Sciacca nell'ambito di un convegno promosso dal Comune e dal Rotary Club. Inaugurata questa mattina in via Agliende la panchina viola, colore simbolo della fibromialgia, parte anche a Sciacca la battaglia portata avanti da Algea e finalizzata a ottenere l'inserimento della malattia nel servizio sanitario. Giustizia, luci ed ombre della riforma Cartabia e le necessarie modifiche da portare per superare gli aspetti controversi. La questione al centro di una iniziativa promossa dalla Camera Penale al Tribunale di Sciacca. Bentornati a questa edizione del nostro telegiornale. Definire un gioiello l'ospedale di Sciacca è una provocazione non tanto nei confronti del sindaco ma della città e peraltro produce come risultato quello di sviare l'attenzione dal Giovanni Paolo II per riservarla agli altri nosocomi. Così il sindaco Fabio Termine risponde al parlamentare regionale Carmelo Pace nell'ambito della polemica politica che ha accompagnato l'incontro nei giorni scorsi con l'assessora alla salute Giovanna Volo. Sentiamo le dichiarazioni del sindaco di Sciacca. Cauto ottimismo è quello che manifesta il sindaco di Sciacca Fabio Termine in merito agli impegni assunti per l'attivazione della Stroke Unit all'ospedale Giovanni Paolo II nell'ambito dell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi con l'assessora regionale alla salute Giovanna Volo e il commissario dell'ASP Mario Zappia. È stato importante vedersi, è stato organizzato questo incontro appunto per confrontarsi sul tema. Devo dire che io sono in una fase in cui preferisco vedere i fatti, quindi c'è stata questa promessa adesso saremo chiaramente sempre sul pezzo per vederla realizzata perché è chiaro che stiamo anche in una fase in cui si avvia a conclusione il lavoro del commissario Zappia e credo che sia nell'interesse di tutti anche del commissario Zappia di lasciare un buon ricordo. Quindi questa è l'occasione per lasciare un buon ricordo nella città di Sciacca. Il sindaco di Sciacca non nasconde il timore che con le prossime nomine dei direttori generali ci si ritrovi a dover ricominciare tutto da capo. Spera che il commissario Zappia si congedi mantenendo l'impegno assunto. Nel corso dell'incontro sia l'assessore che poi il commissario si sono espressi sul fatto che in maniera molto celere si sarebbe predisposto il bando e quindi io lo attendo chiaramente nel corso del mandato del commissario Zappia perché altrimenti vuol dire che l'incontro non è stato proficuo. Siccome in realtà ci siamo lasciati con questi intenti io aspetto, ma come tutti quelli che erano presenti al tavolo aspetto che si realizzi questa predisposizione del bando che poi possibilmente si realizzerà in una fase successiva poi tutto l'espletamento del bando ma il bando deve nascere adesso. Non solo la mancata attivazione della Strocchi Unit sono diverse le criticità ancora presenti all'ospedale di Sciacca struttura DEA di primo livello solo sulla carta. Questo è un tassello chiaramente di tutto lo scenario chiaramente in questa fase di finitura di questo lavoro del commissario ci siamo concentrati principalmente su questo durante l'incontro ma c'è stato un grande accenno anche a tutti i reparti che non funzionano a dovere quello più eclatante è sicuramente quello di urologia dove c'è soltanto il primario che probabilmente non può neanche andare in bagno perché è chiaro che ha tutto sulle sue spalle ma è anche questa la situazione di ortopedia quindi è chiaro che ci sono tantissime cose che non funzionano e bisogna ormai venirne a capo con un progetto serio perché diversamente non penso che questo ospedale possa ancora campicchiare. Fin qui le questioni esclusivamente legate al miglioramento dei servizi ospedalieri ma sulla sanità a seguito dell'incontro con l'assessora Volo si è generata anche l'ennesima polemica politica. Così il sindaco di Sciacca rispetto alla definizione di ospedale gioiellino fatta dal parlamentare e capogruppo della DC Carmelo Pace che peraltro ha parlato di inesperienza in relazione al mancato invito di Fabio Termina a partecipare all'incontro in assessorato. A me risulta che l'onorevole Margherita Roccarruvolo si è dissociata intanto da questa polemica e questo la dice lunga sul fatto se poi fosse una polemica sterile o meno e quello che mi preme dire è che mi risulta che l'onorevole Pace ha incontrato più e più volte l'assessore Volo non mi risulta che abbia invitato nessuno anzi ha fatto sempre gli incontri per come ha ritenuto meglio farli in questo caso quello che succede è che il sindaco di Sciacca pressa l'onorevole Michele Catanzaro per organizzare questo incontro per avere un confronto secco con l'assessore Volo sul futuro dell'ospedale di Sciacca poi l'assessore ha ritenuto opportuno e questo sta nelle cose di coinvolgere anche gli altri deputati quello che penso è che l'onorevole Pace è un bravissimo ragazzo che a mio modo di vedere sta cercando in tutti i modi di litigare con me la differenza è che io non voglio litigare con lui quindi in questo momento sta litigando con se stesso per il resto invece quello che più mi preoccupa non è tanto la provocazione al sindaco di Sciacca ma quello alla città di Sciacca perché definire l'ospedale di Sciacca un gioiellino è una mortificazione per tutti quelli che ci sono sempre stati nella battaglia per l'ospedale che non sono i sindaci protempore, gli onorevoli protempore ma sono le associazioni, i comitati civici che per tutti questi anni hanno condotto una battaglia dire che praticamente l'ospedale di Sciacca è un gioiellino significa mortificare tutti questi e significa soprattutto non dare una speranza al territorio perché se l'ospedale di Sciacca è un gioiellino significa che ci possiamo occupare esclusivamente delle altre strutture ospedaliere io invece penso che il faro debba essere sempre Sciacca perché l'ospedale di Sciacca deve trainare chiaramente il resto del territorio l'ospedale di Sciacca non è di Sciacca è di tutto il territorio è di Montevago, è di Santa Margherita, è di Menfi, è di Sambuca e anche di Ribera e quindi io credo che oggi quello che possiamo fare è misurare le parole perché quando la politica non sa maneggiare le parole si fa danno E a proposito di eccellenze all'ospedale di Sciacca la direzione strategica dell'ASP oggi accende i riflettori sul servizio di odonto iatria speciale riabilitativa, unica realtà della Sicilia occidentale il commissario dell'ASP inoltre nel consueto punto settimanale e annuncia l'avvio finalmente della terapia del dolore all'ospedale di Agrigento a Sciacca bisogna attendere ancora nonostante sia stato annunciato già da tempo vediamo il servizio oltre 500 prestazioni annuali 140 pazienti trattati in ambulatoria e circa 50 in sala operatoria sono i numeri del servizio di odontoiatria speciale riabilitativa del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca destinato ai pazienti diversamente abili o con fragilità che vengono oggi evidenziati dalla direzione strategica dell'ASP di Agrigento un'eccellenza del nosocomio Saccenze unico nel territorio regionale insieme all'ospedale Santa Marta e Santa Venere di Acireale a garantire una serie di prestazioni odontoiatiche d'eccellenza alle persone con disabilità spesso non collaborative ma anche a tutti quei pazienti che si trovano in condizioni di criticità sanitaria temporanea come reduci da infarto, dializzati, soggetti in cura con anticoagulanti e diabetici così il commissario dell'ASP Zappia rispetto al servizio curato dal dottore Giovanni Panarisi in stretta sinergia con l'equipe di sala operatoria del Giovanni Paolo II servizio che attualmente garantisce due sedute operatorie mensili in regime di day surgery di norma svolte nelle giornate del giovedì destinata ad aumentare con la prossima attivazione di un ulteriore ambulatorio presso il presidio ospedaliero Fratelli Parlapiano di Ribera dove peraltro il servizio era attivo nel periodo pre-covid prima di trasferirsi a Sciacca la selezione del paciente da trattare per la provincia agrigentina viene effettuata presso l'ambulatorio di odontoiatria speciale riabilitativa dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove è possibile prenotare le visite preliminari contattando direttamente il reparto secondo quanto previsto dal percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale da Agrigento i pazienti già visitati vengono inseriti in una lista di intervento programmata da eseguire a Sciacca l'ASP dunque accende riflettori sulle eccellenze del Giovanni Paolo II un gioiellino come è stato definito nei giorni scorsi dal deputato regionale Carmelo Pace mentre rimangono sul tappeto diverse criticità e servizi non ancora attivati a cominciare dalla Stroke Unit non solo la gestione dei casi di ictus da tempo si attende l'avvio della terapia del dolore all'ospedale di Sciacca seppure annunciata tanto tempo fa dalla direzione strategica dell'ASP ne ha parlato il commissario Zappia nel consueto punto settimanale per annunciare l'avvio della Scramble Therapy all'ospedale di Agrigento con contestuale ulteriore impegno in futuro a garantire la terapia del dolore anche al Giovanni Paolo II nell'ambito delle iniziative intraprese dall'ASP per aumentare il personale medico vediamo di occuparci un attimo di quelle che sono state le azioni un po' più importanti di questa settimana fra queste sicuramente l'assunzione di nuovi medici all'interno dei nostri reparti siamo riusciti a recuperare una decina di anestesisti e cinque ortopedici per la nostra provincia sono tutti medici specializzanti quindi il contratto che avranno a tempo determinato ovviamente la legge ti consente di fare questo ma ti consente anche di trasformare il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato una volta che loro saranno specialisti quindi sostanzialmente hanno assicurato il posto di lavoro e noi abbiamo assicurato la loro prestazione nella nostra provincia abbiamo dato anche mandato agli uffici di scorrere la gradatoria perché per ortopedici ne abbiamo anche qualcuno in più e ovviamente proporremo a loro se vogliono di essere arrullati nella nostra provincia è stato assunto anche un autista, un amministrativo ma continueremo in questa opera di reclutamento perché come ricordate i numeri del nostro personale sono qualche centinaio sotto di quelli che il nostro fa bisogno quindi è importante non abbassare mai l'attenzione e proseguire in quest'opera di reclutamento un'altra cosa che degna di, secondo me, di essere a conoscenza di tutti è quella che nella nostra provincia, nell'ospedale di Egrigento parte l'ambulatorio per la terapia del dolore terapia del dolore che è una terapia molto importante perché le patologie che possono essere curate con questa tipologia di tecnica che è la scramble therapy che è una tecnica non invasiva che sostanzialmente fa arrivare al nostro cervello trasforma il messaggio dolore in messaggio non dolore e quindi in maniera non chimica, non invasiva, non impattante sul paziente riesce a non far sentire più il dolore votiamo pagina 4 anni e 4 mesi di reclusione è la pena inflitta dal tribunale di Sciacca a un cinquantenne per aver diffuso immagini e video sessualmente espliciti della sua ex convivente oltre alla condanna per diffusione di immagini sessuali il cinquantenne agrigentino è stato condannato anche per percosse l'uomo deve rispondere anche di risarcimento del danno alla parte civile in sede di tribunale civile alla parte civile è stata riconosciuta una provvisionale di 6 mila euro e i carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo coordinati dalla procura della Repubblica di Marsala hanno arrestato per atti persecutori e l'incendio un pregiudicato mazzarese di 37 anni l'uomo con problemi di tossicodipendenza dopo essere stato denunciato dal padre, dal suocero e dalla moglie per reiterati episodi di maltrattamento in famiglia consistiti in minacce di morte e aggressioni verbali avrebbe dato alle fiamme cospargendo la prima di liquido infiammabile l'auto del suocero i carabinieri al momento dell'arresto lo hanno inoltre trovato in possesso di una pistola d'aria compressa detenuta illegalmente priva del previsto tappo rosso l'uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e ci sono buone notizie per il pallone tenda di Sciacca il comune ha rimodulato il progetto e la regione ha confermato il finanziamento di 600 mila euro attraverso un nuovo decreto i lavori che riguardano interventi strutturali sostituzione del telone della pavimentazione e adeguamento degli impianti dovranno completarsi entro settembre 2023 ad annunciarlo al nostro telegiornale è l'assessore allo sport Valeria Gulotta Assessore Gulotta, che novità ci sono per il pallone tenda un impianto sportivo che da anni attende di essere sistemato? Le novità sono positive e sono incoraggianti perché alla luce di un finanziamento intercettato nel 2019 dall'amministrazione Valenti come ben sappiamo e conoscono ormai tutti gli operatori sportivi anche i cittadini il pallone tenda ha vissuto delle fasi burocratiche ingarbugliate e lente ci siamo resi conto insieme agli uffici che con il rincaro prezzi non potevano essere eseguiti i lavori predisposti quindi siamo corsi subito ai ripari con interlocuzioni all'assessorato alla famiglia a Palermo grazie all'aiuto anche dell'onorevole Cadanzaro che ci ha supportato in queste interlocuzioni con gli uffici abbiamo subito rimodulato il progetto proprio per non perdere un finanziamento e per procedere e completare i lavori entro la data definita che è settembre di quest'anno E quindi c'è un nuovo decreto di finanziamento? Il decreto è stato firmato 24 ore fa quindi questa era una notizia che ci dà coraggio Per un importo complessivo che ammonta quanto? A 600.000 euro verranno fatti degli interventi strutturali sul pallone con sostituzione del telone della pavimentazione adeguamenti vari che riguardano l'impiantistica e anche la ristrutturazione dei bagni Questi lavori quando potranno materialmente partire visto è considerato che si dovrebbero concludere entro settembre 2023? Già l'ufficio sta predisponendo tutto per dare affidamento direttamente alla ditta che si aggiudicherà questo incarico siamo fiduciosi perché con i tempi con le progettazioni che si deve portare avanti ce la possiamo fare ce la faremo anzi Carnevale di Sciacca è stata annunciata per sabato prossimo la conferenza stampa di presentazione della manifestazione in programma il 20-21 e 27-28 maggio e a proposito di eventi è stata confermata la presenza a Sciacca nell'ambito dell'edizione 2023 del Green Valley Pop Fest del cantante Fedez è stato il sindaco Fabio Termine con un post su Facebook a ufficializzare la partecipazione dell'artista al Green Valley Pop Fest che farà tappa a Sciacca il 22 e 23 luglio valorizzazione della ceramica e dei dolci tipici saccensi dopo la nota della DC di Sciacca che ha evidenziato l'impegno del deputato Carmelo Pace a sostenere e finanziare i due progetti oggi è l'amministrazione comunale a illustrare le due iniziative che si svolgeranno a giugno e settembre vediamo la città di Sciacca si è presto ad ospitare due importanti eventi che celebrano l'eccellenza del territorio così l'amministrazione comunale commenta l'ottenimento dei due finanziamenti per un totale di 80.000 euro che permetteranno di organizzare due manifestazioni di rilievo il primo evento intitolato Ducizza è una manifestazione dedicata alle bontà saccensi e ai dolci tipici siciliani e si terrà dal 22 al 25 giugno all'interno del centro storico il festival punta a celebrare la secolare tradizione dolciaria saccense del territorio limitrofo offrendo una panoramica su tutti i dolci tipici delle altre regioni italiane oltre ad un'appositaria riservata alla cioccolateria artigianale il finanziamento ammonta a 35.000 euro il secondo evento Sciacca ceramiche d'autore si svolgerà il 23 e il 24 settembre punta alla promozione delle ceramiche saccensi sia offrendo agli artisti uno sbocco sui mercati extra regionali sia favorendo l'utilizzo della ceramica locale come elemento distintivo originale della progettazione dei luoghi urbani e dei relativi arredi un progetto del valore di 45.000 euro che inoltre andrà a valorizzare il disciplinare di produzione della ceramica artistica tradizionale di Sciacca questi due eventi di Chiara e il Sindaco Termine vanno nella direzione che sta seguendo la nostra amministrazione ossia puntare su manifestazioni che possano portare i turisti a Sciacca anche oltre le solite date clou dell'estate e in tale ottica si sta perseguendo l'obiettivo della destagionalizzazione turistica attraverso la creazione di ulteriori eventi per i mesi di ottobre e novembre soddisfazione è stata espressa anche dagli assessori Agnese Sinagra e Francesco Di Mino che sottolineano l'impegno dell'amministrazione nella ricerca di finanziamenti e il lavoro svolto dal dirigente Nando Rapisarda l'ottenimento dei due finanziamenti era stato annunciato già ieri pomeriggio dal gruppo della DC di Sciacca che ha rimarcato il ruolo svolto dal deputato Carmelo Paccia e parliamo ora dei lavori alla rete fognaria in corso nelle zone San Marco, Foggia, Tonnara, Lido e Cutrone e l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Fisco a fare il punto sugli interventi in Contrada San Marco e Via Lido entro fine maggio inizieranno i lavori di scarifica e di posa della pavimentazione stradale nelle zone già completate mentre si continuerà a lavorare nella parte este di San Marco per gli scavi e la posa in opera della rete fognaria in Contrada Foggia si stanno completando i lavori di ripristino degli scavi e verrà effettuata nelle prossime settimane entro fine maggio la sistemazione del manto stradale in Contrada Cutrone ai primi di giugno inizieranno i lavori di scavo per la messa in opera della rete fognaria nella via Cava dei Tirreni si inizierà dal civico 136 verso sud nella giornata di mercoledì verrà fatto un incontro con il comitato di quartiere Cutrone per illustrare le opere e il progetto da eseguire e le disastrose condizioni del manto stradale nella zona di via Cappuccini sono al centro di una interrogazione presentata all'amministrazione comunale dalla consigliera Clelia Catanzaro in particolare si evidenziano nelle vie delle Orchidee delle Betulle, dei Lillà, Campania, Lazio, Via Emilia, Rione 4 Novembre e Rione 24 Maggio la situazione del manto stradale è sotto gli occhi di tutti, scrive Clelia Catanzaro strade ridotte a un colabrodo a causa di frane, smottamenti e copiose perdite idriche la zona di via Cappuccini, aggiunge la consigliera, è molto frequentata e percorsa giornalmente sia a piedi che con lo scooter da studenti che devono raggiungere i vicini istituti scolastici anche per queste ragioni è necessario un urgente intervento di ripristino delle normali condizioni di transitabilità la consigliera Catanzaro rimarca infine anche lo stato di abbandono dovuto alla presenza di erbacce e rifiuti in cui versano il Rione 4 Novembre e il Rione 24 Maggio all'amministrazione viene chiesto se sono in programma interventi volti a ripristino delle strade particolarmente danneggiate seduta consigliare giovedì 11 maggio a Sciacca è stata convocata dal presidente Ignazio Messina con inizio alle ore 19 la prima parte dei lavori sarà dedicata alla trattazione delle interrogazioni poi si passerà all'esame dei punti all'ordine del giorno riguardano la revisione ordinaria delle società partecipate e variazioni al bilancio a seguito di alcuni finanziamenti ottenuti tra questi quelli per i lavori di somma urgenza che riguardano la via Pietro Germi zootecnia e pesca tra sostenibilità e innovazione è il tema affrontato ieri pomeriggio nel corso di un convegno promosso dal comune di Sciacca e dal Rotary Club si è svolto ieri pomeriggio a Sciacca il convegno promosso dal comune del Rotary Club su zootecnia e pesca due comparti fondamentali per l'economia del territorio l'attenzione è stata focalizzata su sostenibilità e innovazione parliamo di rispetto appunto degli animali anche perché c'è questa coscienza civica che cresce sempre di più e c'è un'attenzione nel sistema allevatoriale ma questo ci deriva anche da una serie di leggi a livello nazionale ma più che altro comunitario che sono venute fuori in questi ultimi anni che noi vogliamo cercare di far rispettare proprio perché dobbiamo ridurre entro il 2030 il legislatore comunitario vuole ridurre l'uso degli antibiotici del 50% così come l'uso di anticrittogamici e concimi per l'agricoltura quindi se noi riusciamo a far sì che si possa mantenere un equilibrio fra il sistema allevatoriale e il rispetto dell'ambiente e quindi del territorio forse ci riusciremo sarà ardua ma io sono convinto perché c'è questa maggiore coscienza civica che cresce sempre più sono convinto che ci riusciremo La formazione evidentemente è fondamentale Certamente Gli operatori Certamente Oggi abbiamo necessità appunto di avere operatori preparati e non solo ma che siano coscienti di quello che si deve somministrare vediamo a parte tutti i corsi di formazione ma quella la cosa più importante che è cresciuta questa sensibilità da parte del mondo produttivo cioè oggi il produttore è il primo attore ed è lui il primo a bloccare se qualcosa non va proprio perché sa che ne vale della sua immagine oggi molto spesso sentiamo dire ma io ci metto la faccia proprio perché il mio prodotto deve essere cioè io so quello che devo dare al consumatore Un'ultima battuta Per quanto riguarda per esempio questo tunismo enogastronomico che sta crescendo la ricerca da parte dei visitatori di luoghi dove magari si possa trovare l'allevamento biologico oppure un tipo di allevamento anche ittico che sia specifico Qual è la sua riflessione? La mia riflessione Che succede questo? Ma questo succede proprio per questa voglia di conoscenze voglia di sapere quello che succede e non comprare, diciamo così, a scatola chiusa ma è anche una riscoperta non solo del territorio ma di quelle che sono le nostre tradizioni non tanto vecchie ma di quelle che sono le nostre ricchezze enogastronomiche e allevatoriali nel tempo che poi un po' presi da quello che era il consumismo sono state abbandonate e oggi sotto certi aspetti potremmo dire che stiamo tornando indietro ma non è vero stiamo prendendo coscienza di quello che abbiamo delle capacità che abbiamo anche imprenditoriali di quello che possiamo fare per uno sviluppo sicuramente migliore poter lasciare, parlando di sostenibilità un futuro migliore alle nuove generazioni Nino Carlino, nel settore ittico il tema della sostenibilità è al centro dell'attenzione? Il tema della sostenibilità è al centro dell'attenzione di ogni settore nel settore ittico la sostenibilità è un principio cardine tant'è che quest'anno il Blue Sea Land che sarà dal 18 al 22 di ottobre ha come tema proprio la sostenibilità per cui non c'è futuro sicuramente senza sostenibilità è chiaro che bisogna che la sostenibilità sia in qualche maniera comparata con quella che è l'esigenza nel caso nostro del settore della filiera ittica Per l'appunto i nostri pescatori per esempio qui sono alle prese con diversi specchi di mare interdetti non possono batterli per decisioni che vengono in parte dal piano di gestione qui della Sicilia occidentale ma in parte dall'Unione Europea questi pescatori dicono ma come facciamo a lavorare? molti purtroppo stanno disarmando la sua opinione sulla base anche della sua esperienza professionale qual è? La politica della pesca è di esclusiva competenza della comunità europea purtroppo è una politica della pesca più attenta alle esigenze di quelle che sono le esigenze dal punto di vista del pescato dei mari del nord quello che succede nel Mediterraneo è poco attenzionato il nostro sforzo in questi anni e da ora per il futuro è quello di cercare di far attenzionare di più le problematiche che riguardano il Mediterraneo che riguardano la eccessiva territorializzazione ma non solo questo che riguardano risorse che sono completamente diverse pezzature diverse e stocchi ittici completamente diversi per cui il nostro sforzo è quello di fare in modo che la comunità europea possa vivere e interpretare quelle che sono le esigenze del Mediterraneo in maniera diversa rispetto a quelli che sono i mari del nord possiamo dire che in attesa che la politica italiana in Europa conti qualcosa di più il distretto della pesca nasce proprio per creare una realtà più forte ma guardi il distretto della pesca è un organismo di diritto pubblico rappresenta tutta la filiera ittica siciliana ha sede a Mazzara del Vallo ma rappresenta tutta la filiera ittica siciliana e io mi piace dire che è l'anello di congiunzione tra le istituzioni il mondo della ricerca perché è grazie al mondo della ricerca che si può attuare la sostenibilità e soprattutto le imprese con quelle che sono le esigenze delle imprese questo è il ruolo del distretto della pesca che in qualche modo ne cerchiamo di portare avanti inaugurata questa mattina in via Agliende di fronte il tribunale la panchina viola colore simbolo della fibromialgia parte anche a sciacca la battaglia portata avanti da Algea l'associazione che punta ad ottenere il riconoscimento della malattia da parte del sistema sanitario regionale si tratta di una malattia assai diffusa spesso invalidante le cui cure sono a carico del paziente il servizio Allora Inaugurata questa mattina alla perriere in via Agliende di fronte il tribunale la panchina viola Io Esisto dell'Algea l'associazione fibromialgia e dolore cronico della Sicilia parte anche nella città di Sciacca la battaglia per ottenere il riconoscimento da parte del sistema sanitario regionale della fibromialgia una patologia caratterizzata da dolori muscolari diffusi fortemente invalidante che colpisce soprattutto le donne una malattia diffusa ma le cui cure sono a carico del paziente parte da Sciacca sperando che possiamo toccare tutta la regione con queste panchine ma non tanto con la panchina che poi alla fine è solamente un simbolo il simbolo dove i fibromialgi si riconoscono nel colore viola ma la nostra battaglia deve arrivare alla regione siciliana cioè significa l'inserimento dei livelli minimi di assistenza per riconoscere dignità a questi pazienti che non hanno nessun diritto e soprattutto sono bistrattati dai medici come pazienti immaginari o che non hanno niente invece i fibromialgici soffrono di dolore reale Assessore Sinagra il Comune di Sciacca è in prima linea nell'ambito di questa battaglia? Sì, il Comune di Sciacca è sempre accanto a tutte le associazioni che promuovano il benessere della persona e soprattutto il diritto il diritto ad avere un'assistenza assolutamente coerente con le possibilità con le leggi con l'aiuto e il sostegno che si può dare ad una persona che soffre ecco perché oggi inauguriamo questa panchina viola che vuole diventare un monito è anche un veicolo per chi effettivamente volesse informarsi è una panchina che comunque appunto diventa simbolo in una dimensione umana e sociale in cui questa malattia non ha il rilievo appunto che dovrebbe avere Consigliere Ambrogio c'è anche il suo contributo nell'ambito di questa iniziativa il quartiere della Perriera diventa simbolo di questa importante battaglia Sì, ne sono orgoglioso, ne sono fiero principalmente per questa patologia di queste persone che soffrono la fibromialgia mi sono adoperato ringrazio Ines ringrazio il sindaco e tutta l'amministrazione abbiamo portato avanti il simbolo di questa panchina non è tanto, è un gesto così generoso ma è una grande una grande opera di affetto L'inaugurazione della panchina viola colore simbolo della fibromialgia precede un altro importante appuntamento un convegno medico-scientifico in programma Sciacca sabato prossimo 13 maggio in Sala Blasco obiettivo dell'Algea è quello di ottenere cure pubbliche ma anche un incremento della ricerca Questa è la prima iniziativa proprio da questa panchina stiamo lanciando il convegno a Sciacca presso l'Aula Blasco del Comune di Sciacca che sarà il 13 maggio alle 10.30 dove ci sarà anche una tavola rotonda oltre ai professori che parleranno di fibromialgia poi ci sarà una tavola rotonda con medici, pazienti e associazioni per mettere il punto sulla situazione della fibromialgia in Sicilia ma non solo abbiamo invitato tutti i vari esponenti politici dei vari partiti della regione siciliana e chiederemo proprio nella sede del convegno di Sciacca cosa si sta facendo per la fibromialgia ma soprattutto dove sono finiti i fondi accreditati allo Stato Regioni di 5 milioni di euro per la ricerca della fibromialgia perché già la mia associazione a livello nazionale quindi Empoli ha fatto partire un progetto di ricerca con l'Università di Siena e il professore Marco Mirco Delios che dovrebbe collaborare con l'Università di Palermo e il professore Salvatore Corrao quindi a noi serve sapere dove sono questi fondi perché vogliamo accedervi per far andare avanti la ricerca Riforma Cartabia una riforma discussa è stato questo il tema al centro stamattina di un convegno che si è svolto al Tribunale organizzato dalla Camera Penale di Sciacca presieduta dall'Avvocato Aldo Rossi relatori i vertici nazionali della Fondazione e dell'Unione Camere Penali Italiane ne parliamo in questo servizio La discussa riforma della giustizia che porta il nome dell'ex ministra Marta Cartabia al centro questa mattina di un convegno che si è svolto a Sciacca nell'Aulamagna del Tribunale un'iniziativa organizzata dalla locale Camera Penale presieduta dall'Avvocato Aldo Rossi allo scopo di analizzare gli aspetti principali e maggiormente discussi della revisione della riforma della giustizia italiana di luci e ombre della riforma Cartabia e delle modifiche necessarie hanno parlato i vertici nazionali della Fondazione e della Unione Camere Penali Italiane è una riforma di compromesso dove hanno partecipato forze politiche di diverso orientamento e tutte le soluzioni di compromesso sono delle soluzioni che non soddisfano alla fine ci sono alcuni aspetti positivi senza altro l'idea che il carcere non sia l'unica soluzione per la pena c'è il rafforzamento dei riti alternativi c'è un indebolimento delle impugnazioni che secondo me deve destare preoccupazione cioè prevalgono gli aspetti formali rispetto agli aspetti sostanziali in più a mio modo di vedere il principio di oralità che è il cardine del processo penale viene in qualche modo diluito perché l'avvocato deve chiedere di poter parlare soprattutto nel processo di merito di appello e quando tu devi chiedere per ottenere un diritto il diritto in genere si affievolisce se non si annulla quindi direi che è una riforma perfettibile è una riforma che esce da un periodo abbastanza buio per la nostra giustizia bisogna ricordare che prima il ministro della giustizia era buona fede che la ministra Cartabia ha fatto quanto era possibile in quel momento e c'era anche la stretta dell'Europa che reclamava per il PNRR quindi diciamo che probabilmente questo era un punto d'incontro l'unico punto d'incontro possibile però credo che adesso si possa senz'altro migliorare è una riforma che ha aspetti importanti positivi molte criticità e quindi abbiamo da subito assunto l'iniziativa di segnalare al ministro insomma quelli che a noi sembrano i punti su cui è urgente e necessario intervenire si è aperta un'interlocuzione speriamo che sia fruttuosa bisogna intervenire sicuramente su alcune limitazioni gravi del diritto di impugnazione dobbiamo riflettere tutti se questa udienza predibattimentare per il monocratico sia una cosa che ha un senso se ci sono le strutture e gli organici per farla perché il rischio è che poi le udienze vengano assegnate ai giudici onorari c'è il tema della prescrizione a cui bisogna rimettere mano cancellando l'obrobrio della riforma Bonafede insomma questioni importanti custodia cautelare intercettazioni telefoniche poi sa indicare i temi è importante come ha fatto il ministro bisogna vedere però nel merito quale sono le soluzioni noi stiamo ancora aspettando di conoscere in concreto quali saranno poi le soluzioni secondo voi ci sono i margini per apportare le necessarie modifiche c'è la giusta apertura da parte dell'attuale governo sì secondo me sì il ministro Nordio ha dato grande disponibilità in tal senso perché si è avveduto che ci sono alcune norme che non sono francamente sostenibili immaginare che un appello venga dichiarato inammissibile perché manca l'elezione di domicilio quando magari una persona è innocente è qualcosa che non si può neanche vedere quindi queste storture sono ben presenti credo io al ministero che ha nominato una commissione anche per verificare appunto questi aspetti e io devo dire che sono fiducioso anche perché ci sono alcune cose chiaramente che sono da modificare perché sono degli errori davvero eclatanti Avvocato Rossi dopo la protesta sempre legata a questa tematica oggi è il giorno della riflessione dell'approfondimento e del dibattito esattamente andremo ad approfondire le tematiche ma non soltanto quello che sono state oggetto dell'astenzione ma tutto ciò quello che comporta direttamente di riflesso la riforma cartabbia le ragioni dell'astenzione erano circostanziate sul fatto di un'eccessiva perdita di tempo in relazione a quanto era stato già programmato dal governo stesso come dicevo era che incontrano in realtà i principi dell'unione delle Camere Penali e lì ci siamo astenuti proprio perché si perdeva del tempo qui invece è uno studio tecnico è uno studio tecnico politico su quelle che possono essere le prospettive quella che doveva essere la riforma cartabbia non è stata in un concetto proprio squisitamente liberale e che in realtà adesso andremo ad approfondire queste tematiche fondamentali con tre illustri relatori che insomma andranno ad arricchire quello che è il nostro patrimonio anche in termini di prospettiva una raccolta straordinaria di generi alimentari è stata organizzata dalla Caritas della parrocchia di San Calogero con lo scopo di sostenere le famiglie indigenti del territorio una settantina le famiglie che verranno aiutate vediamo una raccolta straordinaria di generi alimentari per dare un sostegno concreto alle famiglie bisognose del territorio questa è l'iniziativa della Caritas parrocchiale della Basilica Santuario Parrocchia di San Calogero al Monte i beni alimentari vengono raccolti dinanzi il punto vendita paghi poco sito nel quartiere Isabella ascoltiamo i dettagli in queste interviste purtroppo il momento si sta facendo sempre più critico nella nostra Caritas abbiamo un'affluenza non indifferente di persone che vengono a solicitare un aiuto materiale e anche un conforto spirituale quello che noi ci proponiamo è dare sostegno a tutte queste nuove famiglie i nuovi poveri che si stanno avvicinando alla nostra parrocchia e ce ne sono tanti come numeri questa raccolta a quante famiglie è destinata? attualmente nel nostro centro di ascolto di San Calogero abbiamo un'affluenza di una settantina di famiglie vanno e vengono ce ne sono però parecchie che per la prima volta si stanno avvicinando quindi vediamo che c'è un incremento consistente soprattutto beni di lunga conservazione pasta pelati zucchero biscotti brioci caffè legumi questi sono alimenti che nel corso delle settimane o dei mesi riusciamo meglio a conservare e poi dare fare fronte alle necessità delle famiglie per chi volesse contribuire come può fare? noi siamo oggi qua tutto il giorno dalle 8.30 alle 13 e poi dalle 16 alle 19 possono venire al supermercato paghi poco di Contraresa e Bella a fare un'offerta volontaria per la Caritas parrocchiale di San Calogero in generale quali sono le attività della Caritas parrocchiale come stanno andando le varie iniziative? noi come attività principale abbiamo il centro di ascolto al centro di ascolto e poi affianchiamo un altro sportello che è il Corner che è uno sportello di orientamento socio-lavorativo con questo sportello noi accompagniamo le famiglie ma incominciamo a iniziare un percorso anche di reinserimento lavorativo soprattutto del capofamiglia se se un'eventuale richiesta di curriculum di aziende del territorio ma anche nonne riusciamo a far presentare appunto un curriculum per un proprio lavoro perché ricordiamoci sempre che una famiglia diciamo per una ripartenza della famiglia è fondamentale il lavoro quindi questo questo servizio ci consente e ci sta consentendo di portare avanti delle iniziative come i progetti formativi che Caritas finanzia con i fondi dell'otto per mille e diciamo danno l'occasione l'opportunità a chi non ha un lavoro di reinserirsi nel mondo del lavoro con anche diciamo risultati che nell'ultimo periodo hanno portato dei frutti perché poi anche queste persone sono state assunte in aziende di sciacca e poi in ultimo abbiamo sempre con Caritas di Ocesana stiamo portando avanti l'iniziativa di un corso di ceramica alcune botteghe di sciacca di ceramica si sono messe a disposizione e abbiamo diciamo dato l'opportunità a chi vuole iniziare una nuova esperienza lavorativa si vuole mettere in gioco avere un'opportunità nuova di lavoro che consente se magari si trova poi nell'immediato futuro diciamo portare avanti una nuova iniziativa lavorativa cambiamo argomento 30 anni fa la visita di Papa Voitila ad Agrigento e quel monito alla mafia rimasto nella storia in occasione di tale ricorrenza domani arriveranno nella città dei Templi le sue reliquie di primo grado sono state prelevate a Cracovia e saranno consegnate alla cattedrale di San Gerlando musica domani a Sciacca alle 20 e 30 presso l'ex chiesa di Santa Maria della Raccomandata si terrà la performance vocale e teatrale intitolata Motriz proposta da Juliana Mota dell'Università Federale Brasiliana l'evento avrà la collaborazione dei professori Antonio Quinet e Alfonso Gianluca Gucciardo che interverranno sul tema dell'inconscio teatrale e della voce artistica si tratta di una iniziativa promossa dalla Schenea Academy in collaborazione con Italia Nostra Comune di Sciacca ed altre associazioni del territorio e nuovo appuntamento domani mattina con San Marco Restart protagonista del salotto letterario condotto da Giuseppe Recca e Salvatore Monte autore e regista e adesso la rubrica il libro del giorno è l'estate del 1966 l'arrampicatore californiano Gary Gaming è venuto in Italia sull'onda dell'insaziabile fame di vita che da sempre lo incendia la routine si spezza all'improvviso a metà agosto quando i giornali danno notizia che due scalatori sono rimasti bloccati sul Petit Drou la parete più dura del Monte Bianco Gaming intuisce che i soccorsi rischiano di non raggiungere in tempo i dispersi e con altri cinque pirati delle rocce decide di salvarli seguendo una via diretta sembra una follia ma Gaming è cresciuto con un imperativo categorico aiutare sempre anche a costo della propria vita perché la prossima volta potresti esserci tu la sua ad avere bisogno che qualcuno venga a soccorrerti quei giorni si riveleranno davvero fatali per Gary ma in un modo che né lui né i suoi amici o i suoi amori possono immaginare Enrico Camanni alpinista e profondo conoscitore della montagna e dello spirito che l'anima racconta con stile elettrico appassionato estruggente gli ultimi anni dell'iconico scalatore se non dovessi tornare la vita bruciata di Gary Hemming alpinista fragile di Enrico Camanni Edito Mondadori Tutto pronto incontrata a Ferraro per la gara di kart valevole come seconda prova del trofeo nazionale ACI circuiti cittadini 2023 che si disputerà domani circa 100 i partecipanti oggi giornate di iscrizioni e prove nell'ambito di una manifestazione organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica PKS Italia Motorsport di Castelvetrano e patrocinata dal comune di Sciacca ne abbiamo parlato con l'assessore allo sport Valeria Gulotta Tutto pronto incontrata a Ferraro quartiere della città di Sciacca che domani ospiterà la gara di kart valevole come seconda prova del trofeo nazionale ACI circuiti cittadini 2023 fervo nei preparativi per un evento sportivo che attirerà tantissimi appassionati Già da oggi pomeriggio in realtà ci saranno delle prove libere Sciacca ospita una tappa nazionale di kart cittadino è anche un motivo di vanto per noi la scelta della contrada a Ferraro non è stata casuale ma è stata una scelta mirata per valorizzare un quartiere che tante volte è stato messo un po' da parte contestualmente alla gara sono stati effettuati delle operazioni ordinarie di pulizia e di messa in sicurezza di alcune griglie che versavano in condizioni pericolose da diverso tempo rassicuriamo gli abitanti del ferraro che questi interventi non termineranno con la gara ma continueranno nel corso delle prossime settimane e aspettiamo domani già dalle 11 del mattino numerosi sacensi per partecipare a questo evento sportivo nella nostra città circa 100 i partecipanti oggi giornata di iscrizioni e prove nell'ambito di una manifestazione organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica PKS Italia Motorsport con sede a Castelvetrano è patrocinata dal comune di Sciacca si parla di un centinaio di partecipanti con NS Famiglia a seguito una quarantina di sacensi che gareggeranno quindi sì ci sarà un buon flusso di gente a Sciacca Sport lunga trasferta per il discobolo Sciacca in pedana a Porto Sant'Elpidio per i campionati italiani di aerobica protagonisti tre giovani atleti alla loro prima esperienza di carattere nazionale vediamo discobolo Sciacca nuovamente in trasferta è questa volta protagonista ai campionati italiani di aerobica la squadra agonistica di ginnastica aerobica dell'associazione sportiva discobolo va in cerca infatti di conferme nel weekend a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo con la squadra di giovanissimi che si era qualificata in modo brillante nella precedente fase interregionale dei campionati italiani il team guidato dal tecnico Marinella Riggio è formato dagli atleti Enea Pifferi Alice Ciaccio e Gaia Allegro i giovani atleti si confronteranno con i big dell'aerobica nazionale e avranno modo di fare esperienza ammirando i protagonisti di questa specialità e anche a molti volti noti visti a Sciacca in occasione del trofeo Città di Sciacca Aerobic Competition la manifestazione che si svolge ogni anno in estate giunta alla sua tredicesima edizione La trasferta di Porto Sant'Elpidio è successiva per quanto riguarda il settore ginnastica aerobica a quella di Pomigliano d'Arco dove un mese fa si sono tenuti i campionati interregionali Marinella Riggio e Pippo Vullo sperano in un'altra bella prestazione per una realtà che è comunque la migliore nel panorama regionale Bene questo era l'ultimo argomento io mi fermo qui vi ringrazio per essere stati con noi arrivederci a presto